Il Presidente Rouhani ha dimostrato un grande interesse come naturale per il Colosseo che aveva visto dall'esterno ma non aveva mai visitato all'interno e quindi come sempre con lo stupore e la curiosità di tutte le persone del mondo che vengono a scoprire il Colosseo e quindi ha fatto molte domande e ha dimostrato un grande interesse. Beh certo si è fatto raccontare la storia del Colosseo, ha mostrato anche molto interesse al tema della ricostruzione dell'arena che gli abbiamo spiegato che consentirà di visitare i sotterranei e di vedere il Colosseo dal centro oltre che da quello spicchio di arena che è già ricostruito quindi mi pare una cosa molto importante e un'altra dimostrazione che so.